Salgono a 31 le antenne Europa sul territorio della città metropolitana. Lunedì 24 ottobre si è svolto un incontro dal titolo L'Europa in Comune per il rafforzamento della dimensione europea sui territori, promosso dalla città metropolitana di Torino con il suo Europe Direct Torino. Duplice l'obiettivo, avvicinare l'Europa ai cittadini e i comuni all'Europa. Le antenne Europa sono situate presso gli sportelli al cittadino, come Urpi, Informa Giovani e Biblioteche e hanno l'obiettivo di dare tutte le informazioni sulle iniziative comunitarie. Negli anni passati molti comuni avevano già compreso e colto l'opportunità di farsi antenne, ma l'incontro presso la città metropolitana è stato l'occasione per rinnovare il protocollo e per dare il benvenuto a ben 16 nuove antenne. Per avvicinare i comuni all'Europa è invece stata presentata un'iniziativa della Commissione Europea per le amministrazioni locali. Costruire l'Europa con i consiglieri locali punta a creare una rete europea di rappresentanti politici finalizzata alla comunicazione con l'Unione Europea. La città metropolitana, che ha già aderito all'iniziativa, ha designato la consigliera delegata Valentina Cera come sua rappresentante. Brusasco è una delle new entry fra le 31 delle antenne Europa che formano oggi la rete. Perché avete preso questa decisione? A cosa servirà il vostro comune? Abbiamo interpretato l'adesione come la volontà di aprire il nostro piccolo comune a quelle che sono le opportunità europee, soprattutto cercando di spalancare una porta nei confronti dei giovani. Spesso nelle piccole comunità, Brusasco a 1500 abitanti, i messaggi fanno fatica ad arrivare. Ci auguriamo con questa adesione di riuscire ad avere informazioni, notizie che possono essere utili per far crescere il nostro comune, ma soprattutto a rivolgerci alla popolazione più giovane, quella che magari tende ad allantonarsi dalle piccole realtà e dando questa opportunità rimangono più radicati sul territorio. Il GAL Valli del Canavesa aderisce per la prima volta alla rete delle antenne. Con quali aspettative? Allora, in Sud siamo molto contenti e orgogliosi che l'Europe d'Ari di Torino, la città metropolitana, ha accettato la nostra candidatura. In Europa ci sono 2800 GAL ed è il posto dove si respira l'area europea. Noi diamo attuazione a fondi europei, facciamo progetti di sviluppo locale e quindi per noi l'Europa è proprio la madre di tutte le nostre attività. E quindi per noi è molto importante avere questa identificazione con l'Europe d'Ari, vi allestiremo un ufficio apposito del nostro GAL dedicato a questo, ma ci teniamo molto. E ringraziamo anche i comuni del nostro territorio che ci hanno spinto a candidarci per ospitare l'antenna Europa e quindi speriamo di fare bene. Siete diventati quest'anno una delle 31 antenne dell'Europa sul territorio. Qual è il senso e la ricaduta per il vostro comune? Dunque per noi il senso è quello di diffondere il più possibile il pensiero europeo. E per un paese come noi che siamo un po' ai confini della città metropolitana dove il lavoro più diffuso è l'agricoltura. Quindi ci sono diversi laureati, però in percentuale rispetto a chi abita in città ovviamente è ancora molto bassa. Per cui la possibilità di essere a contatto con quella che è l'Europa, quelle che sono le istituzioni, è inferiore. Il comune ha quindi, secondo noi come amministrazione, un ruolo fondamentale in questo. Deve farsi da tramite e deve riuscire a diffondere il più possibile questo pensiero per rendere tutti più consapevoli di quello che vuol dire essere Europa. Noi vogliamo rivolgerci soprattutto ai giovani e infatti anche per questo tutti gli anni incontriamo chi compie i 18 anni e oltre a consegnarli la Costituzione si cerca sempre di dare, di comunicare un pensiero di comunità che va oltre i confini. Quest'anno in particolare, avendo avuto questa opportunità, incontreremo i 18 anni l'8 di novembre e grazie alla disponibilità di una funzionaria della città metropolitana avremo la sua presenza e sarà lei per prima comunicare loro questo pensiero.